Perché parliamo oggi tutti di Fiorentina-Bayern? Perché solo possiamo guardare in nostra casa? E' che tutti adesso parliamo di Fiorentina-Bayern. No? L'Italia non ha fatto un'altra cosa che parlare di Fiorentina-Bayern. E penso che i professionisti della Fiorentina meritano, meritano che si parli di questa cosa qua. Però, in questo momento, perché non diciamo tutti, guardiamo a casa nostra e non parliamo di questo. Parla solo Prandelli di questo. Non c'è Prandelli che parla. Parliamo tutti. Tutti voi, Federazione, Lega Calcia, Presidente, tutti parliamo di questa cosa qua. Perché ragione, perché ragione in quello che succede nel calcio italiano, dobbiamo tutti fare come quell'animale che io non lo so dire il nome in italiano, che mette la strusola, perché ragione dobbiamo fare questo. O siamo... O coerenza, si dice coerenza, no? O coerenza o no coerenza? Se oggi il signor Bettega dice tutti zitti, non si può parlare di Fiorentina-Bayern, perché di Fiorentina-Bayern solo può parlare Rummenigge, Van Gaal, Prandelli e della Valle. Siamo coerenti, tutti zitti. Però... Aria con 25 metri, c'è solo una in Italia. aria con 25 metri, aria con 25 metri, Grazie.